Bene, siamo qui a Roma Università Roma 3, Cristiano Corsini, in corso di svolgimento un dibattito sulla valutazione nella scuola primaria. Siamo alle porte di una discussione, di un emendamento che il Governo vuole imporre e portare, quindi riportare a una valutazione di tipo sintetico. Corsini, quali sono i rischi di queste vostre perplessità riguardo questo provvedimento? Diciamo che è un passo indietro perché la valutazione si era messa in linea con le concrete esperienze valutative più efficaci, svolte da insegnanti nelle scuole e questo allineamento purtroppo viene messo in discussione, anzi non viene neanche discusso in realtà, ma viene sostanzialmente abbandonato. La valutazione analitico-descrittiva è una valutazione che orienta l'apprendimento. La valutazione sintetica, sia essa numerica o meno, quindi giudizi o sintesi numeriche, quindi voti numerici o non numerici, non cambia nulla, è una valutazione che sostanzialmente rendi conta, che lascia immutato il quadro, che legittima le disuguaglianze di partenza e che trasforma il privilegio in merito ed è una valutazione che quindi ha un impatto estremamente negativo sulle studentesse, sugli studenti, sulle famiglie e anche su scuole docenti perché in questi anni avevano anche provato a lavorare con tutte le difficoltà del caso su questa nuova valutazione. È un peccato. Un'ultima domanda. Abbiamo parlato dei docenti. Cosa cambierà per l'insegnante praticamente? Si rischia appunto di avere un giudizio più classificatorio? Forse aumenterà anche la burocrazia? Questo non lo so che cosa dal punto di vista burocratico. Certo ci sarà un ulteriore passaggio. Quindi questo insomma a tre anni dal precedente l'avrei evitato. È un peccato davvero che non si sia provato a migliorare l'impianto normativo e invece si torni indietro così. No, allora non è detto che le cose cambino per l'insegnante perché l'insegnante che usava la valutazione descrittiva potrà ancora farlo valutando e descrivendo in itinere e poi usando lo spazio sulla scheda, il povero spazio sulla scheda sulla base, quindi arrivando a quello spazio sulla scheda sulla base delle descrizioni raccolte in itinere. Però sicuramente per le famiglie ci sarà un impoverimento complessivo dell'informazione sull'apprendimento di alunni e alunni e ci saranno anche minori opportunità formative. Il problema è sostanzialmente questo. Grazie a tutti.